Da domani, 7 novembre, sarà disponibile negli ambulatori dei medici di base e pediatri il vaccino antinfluenzale. 60.000 le dosi in tutta l'area vasta, Pesaro, Fano ed Urbino, che sono state ordinate dal Dipartimento di Prevenzione, basandosi sul dato storico degli anni passati e sulle richieste avanzate dai singoli medici, in base alla composizione dei pazienti presenti nel proprio schedario, maggiorandolo percentualmente. Un'opportunità per molti cittadini ed un obbligo salutare per altri. Ad usufruire gratuitamente delle dosi sono gli over 65 anni e bambini di età superiore ai 6 anni ed adulti con patologie a rischio complicanze. Sembra che quest'anno non abbiamo problemi di carenza, anno scorso siamo arrivati alla fine che ancora c'erano richieste, sembra appunto che l'ASL ne abbia ordinati delle dosi maggiori e quindi dovrebbero essere sufficienti per tutti. Qual è il periodo più corretto per iniziare a fare il vaccino? Il periodo sicuramente è questo, quindi alcuni cominceranno già da domani mattina, altri inizieranno penso lunedì della prossima settimana. Il clou sarà dall'11 al 25 di novembre, che è il periodo giusto per la vaccinazione. I pazienti devono essere consapevoli che devono vaccinarsi. Le forme che si sono viste adesso, anche febbrili, forse sono parainfluenzali, diciamo più da raffreddamento, giusto? Sì, queste sono le virosi solite del cosiddetto cambiamento di stagione, come lo chiamano i pazienti, e quindi per ora influenza ancora non c'è. D'altra parte il vaccino prima di funzionare, quei 20-30 giorni ci devono essere. Quindi ecco il motivo per cui ci si consiglia di vaccinare verso la metà di novembre, così che già per Natale e per i primi giorni del prossimo anno c'è una buona copertura.